Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. La ripresa non è uguale per tutti. I numeri del Consuntivo Consumi 2021 elaborato dall'Ufficio Studi di ConfCommercio lo testimoniano. L'anno si è chiuso con una crescita del PIL del 6,2% e dei consumi del 5,1%, quindi una buona vitalità del tessuto produttivo del paese, nonostante l'andamento della pandemia. Il problema però, avverte l'Ufficio Studi, è che ci sono dei settori che non sono mai riusciti a riprendersi e ad agganciare la ripresa, a cominciare dalla filiera turistica e dall'area della cultura e del tempo libero, che sono ancora molto distanti dai livelli del 2019. Ristorazione e alberghi registrano una perdita di consumi rispettivamente del 27,3% e di quasi il 35%, i servizi culturali e ricreativi del 21,5% e ci sono anche altri comparti con cali a doppia cifra, come i trasporti, meno 16% e l'abbigliamento e le calzature con meno 10,5%. Sentiamo sul tema il commento del Presidente nazionale Carlo Sangalli. La nuova ondata pandemica, insieme a inflazione e caro energia, sta raffreddando consumi e riprese economiche. Una ripresa che per migliaia di imprese come quelle del turismo non è mai arrivata pienamente. In un contesto ancora così grave e allarmante, chiediamo al Governo di procedere subito con i sostegni ai settori più colpiti, a cominciare dal rinnovo della cassa Covid e delle moratorie fiscali e creditizie. Il primo gennaio è entrata in vigore la legge di bilancio 2022, con norme di particolare interesse per le imprese. Tracciamo una sintesi delle novità con il dottor Paolo Maran, responsabile dei servizi fiscali di Confcommercio Vicenza. Innanzitutto c'è stata una rimodulazione delle aliquote IRPEF. Sono passate a 4 e le aliquote che sono state maggiormente agevolate sono quelle che vanno dai 15.000 euro ai 50.000 euro. Dopodiché c'è stato l'esonero IRAP per le ditte individuali, esonero dalla TOSAP e dalla COSAP per i pubblici esercizi. Dopodiché c'è stato un ricorso alle proroghe che interessano anche le aziende, le proroghe che riguardano il settore edilizio, per il quale anche i soggetti con partita IVA possono ottenere agevolazioni, riguardano in particolare l'eco bonus, perciò la riqualificazione energetica, il bonus facciate e anche il sisma bonus. E per quanto riguarda gli investimenti ci sono novità? Sì, è stato prorogato il credito cosiddetto impresa 4.0, sia pure leggermente ridotto rispetto agli anni scorsi, perciò anche nel 2022 ci sarà la possibilità di acquistare beni strumentali nuovi con credito d'imposta e inoltre sono state anche agevolate i pagamenti delle cartelle esattoriali ricevute nei primi mesi del 2022 che godono del pagamento di 180 giorni anziché dei classici 60. E per quanto riguarda la fatturazione elettronica per i forfettari? Ad oggi i forfettari, coloro che usufruiscono del regime agevolato forfettario, continuano a poter fare ancora la fattura cartacea. Chiaro che ci aspettiamo delle novità a breve. E ConfCommercio cosa fa per le imprese? Faremo degli incontri formativi, possibilmente in presenza ma sicuramente con dei webinar, per poter illustrare quelle che sono le novità normative, per approfondire gli argomenti che sono di interesse agli associati e per dare risalto alle opportunità. Il centro formazione ESAC è pienamente attivo con le nuove proposte formative per il 2022, nonostante la pandemia in corso abbia necessariamente spostato parte della didattica online. Il corso per cuoco e quello per pasticcere, entrambi per il conseguimento della qualifica professionale, partiranno però a breve in presenza. Sentiamo cosa ci dice a riguardo la responsabile del centro formazione ESAC, Sara Patrizzi. Ripartiamo con i corsi a qualifica di cuoco e pasticcere di Università del Gusto, che negli anni hanno saputo offrire importanti sbocchi lavorativi a tutti i partecipanti che li hanno frequentati. E proprio in questo momento in cui il comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi ha delle oggettive difficoltà nel reperire il personale competente e qualificato per svolgere queste professioni, i due percorsi formativi che proponiamo possono essere uno strumento importante per inserirsi nel mercato del lavoro. I corsi durano complessivamente 600 ore, 300 ore di formazione teorico-pratica nelle nostre aule, nei nostri laboratori e 300 ore di tirocinio in selezionate aziende del settore. Sono tenuti da chef, maestri pasticceri, professionisti in grado di trasferire tutte le competenze teorico-pratiche necessarie per acquisire la professionalità di cuoco e di pasticcere. e alla fine del percorso formativo rilasciamo la qualifica valida non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, e anche l'abilitazione di somministrazione e vendita di beni alimentari. Quindi per tutti gli appassionati che vogliono trasformare la passione in una professione o chi desidera ricollocarsi ed inserirsi in un comparto sicuramente trainante dell'economia come quello del turismo, questa è un'occasione molto importante. Il corso di cuoco partirà il 24 gennaio, il corso di pasticcere il 7 febbraio. Sono corsi che ovviamente terremo in presenza, rispettando tutti i protocolli di sicurezza necessari per poter svolgere la lezione in sicurezza. Per qualsiasi informazione siamo a disposizione qui al centro di formazione ESAC o chiamandoci allo 0444 96 43 00 o scrivendo una mail a infochiocciolauniversitadelgustovicenza.it È tempo di rampusoli questi piccoli ortaggi prelibati, i raperonzoli in italiano, dalle tenere e gustose foglie ma soprattutto con una prezzatissima radice aromatica. Un prodotto che nel territorio di Villaga e dintorni cresce spontaneo grazie ad un microclima ideale oltre ad essere coltivato in serra da appassionati agricoltori. Ma è nei ristoranti locali che c'è modo di gustarli nella migliore dei modi. Infatti partirà la rassegna del rampusolo 2022. Sentiamo l'intervista. Anche quest'anno ci sarà la rassegna, sarà un po' più fluida. Tutti quanti i 7 partecipanti avranno per tutto il periodo dei prodotti, serviranno ai loro tavoli dei prodotti a base di rampusolo, dei piatti. Le serate quest'anno saranno due. La prima il 21 a Ristoranti Canonici a Barbarano e il 4 di febbraio qui da noi Trattoria Sabrina. Saranno due serate dove potrete degustare il rampusolo nostro di Villaga in tutti i modi, in tutti i piatti, insomma dall'antipasto al dolce. Il rampusolo è un prodotto molto versatile e anche molte proprietà per il nostro organismo. Ci aiuta a superare bene l'inverno e anche a soddisfare il nostro palato. Cerchiamo di portare avanti questa tradizione, di degustarlo a punta tavola, dal tradizionale risotto con rampusolo alle fettucine e c'è sempre il mancabile abbinamento col salame alla griglia e rampusolo al lardo. Ed ora i corsi in programma al Centro Formazione ESAC. ESAC Formazione propone giovedì 3, 10, 17, 24 febbraio e 3 marzo, dalle 20 alle 22 e 30, il corso LinkedIn, le opportunità di social business. Il corso, anche attraverso lo studio di alcuni casi aziendali, offre una panoramica sulle potenzialità di questo social network per la crescita e lo sviluppo dell'impresa e del professionista. Il controllo di gestione per l'efficienza organizzativa. È il titolo del corso che si svolge lunedì 24 e 31 gennaio e poi il 7, 14 e 21 febbraio dalle 20 alle 23. Il corso offre gli strumenti per impostare in modo efficiente un sistema di organizzazione e di controllo di gestione in azienda. Una volta avviato correttamente, tale sistema permetterà di monitorare e raggiungere gli obiettivi in precedenza definiti e diventerà in suo stesso fonte di informazioni utili per il miglioramento dei risultati aziendali. L'Università del Gusto propone il corso La panificazione per la pasticceria, mercoledì 2 e 9 febbraio dalle 13 alle 19. La pasticceria è un modo in continuo fermento che si sta espandendo verso nuovi format di offerta per il cliente finale. L'obiettivo del corso è scoprire le diverse applicazioni derivate dal mondo della panificazione per la pasticceria. Lunedì 7 febbraio dalle 9.30 alle 15.30 il corso Menù vegetariano dall'antipasto al dolce con lo chef Andrea Valentinetti, una lezione dedicata alla cucina vegetale, all'utilizzo innovativo e creativo di verdure nei piatti della ristorazione. Ed ora l'agenda! Lunedì alle 13.15, videoconferenza del Consiglio Ascom. Martedì alle 11, webinar di Aice, post-Brexit, tutte le novità del rapporto tra UK e Unione Europea alla luce del primo anno di applicazione. Mercoledì alle 20.45, incontro formativo della Federottica di Vicenza, esporre gli occhiali nelle vetrine. Venerdì alle 17, videoconferenza, incontro formativo dell'Associazione Provinciale Agenti Immobiliari da fare in mediazione dal titolo I collaboratori dell'Agenzia Immobiliare. E per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Una rivederci e buona settimana! Grazie a tutti!